La ricostruzione della vecchia caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila avverrà ad opera di una ditta che ha proposto oltre il 50% in meno rispetto alla base d'asta, un metodo, quello del massimo ribasso, contro il quale si schiera fermamente Ance e l'Aquila in una nota in cui si sottolineano le perplessità legate a questo bando di gara pubblica. La commissione di gara scrivono, dopo aver escluso la prima in graduatoria, per chi ha giudicato anomali il ribasso proposto del 65,3%, ha deciso di assegnare lavori di un importo complessivo, lo ricordiamo, di 5,4 milioni di euro, alla seconda classificata che ha proposto invece un ribasso d'asta del 57,5%, ritenendolo congruo. Ancora una volta, commenta il presidente dei costruttori aquilani Gianni Frattale, un'importante gara pubblica viene istruita secondo il criterio discutibile e ormai impopolare nella cultura delle costruzioni, del massimo ribasso. Viene spontaneo chiedersi quale congruità possa ravvisarsi in un ribasso che supera abbondantemente della metà gli importi previsti dal preziario regionale, già di per sé non pienamente adeguato ai costi correnti e per questo in via di aggiornamento. Ci auguriamo, ha detto Frattale, che tutto questo non porti conseguenze per i lavoratori, i fornitori, la qualità del lavoro e dei materiali, la sicurezza dei cantieri e anche per la pubblica amministrazione. Ci aspettavamo che dopo tanti ritardi e difformità nell'iter di appalto della caserma dei Vigili del Fuoco, che continuano da anni a lavorare in strutture in idonee, si arrivasse ad un'assegnazione dei lavori esemplare che non desse alito ad ulteriori dubbi. Nulla contro l'impresa vincitrice, ribadisce Frattale, probabilmente vittima anch'essa di questo sistema, costretta a scarnificare il proprio legittimo guadagno per assicurarsi il lavoro. Ci auguriamo solo, dice, che le restrizioni imposte dalla dittatura del ribasso dei costi non siano poi recuperate mediante varianti nel corso dell'esecuzione dei lavori. Siamo certi che questo non sarà consentito dai funzionali del provveditorato alle opere pubbliche. Ancel Aquila, chiosa Frattale, monitorà con particolare attenzione questa importante opera, auspicando un immediato avvio dei lavori, a differenza di quanto sta accadendo per la scuola di Amicis dell'Aquila, dove, a lavori assegnati da circa tre anni, non si riesce a vedere l'inizio del cantiere. Non si sa se per varianti ai lavori o per modifiche al piano regolatore.